A rischio 300 posti di lavoro e tutta una filiera, quella del tabacco, che nell'Alto Tevere conta un'incidenza occupazionale di circa 2.500 unità. Si alza da città di Castello il grido di allarme di TTI, FAT, RSU e di AgriCooper che hanno manifestato in un'assemblea generale le preoccupazioni per il futuro del settore. Dopo la decisione della società JTI Japan Tobacco International di spostare dalla prossima campagna produttiva la lavorazione del tabacco greggio presso lo stabilimento Delta Fina di Bastia Umbra, lavoratori e sindacati hanno lanciato l'SOS alle istituzioni, confidando in un loro intervento immediato affinché possano trovare una soluzione per mantenere il processo produttivo nel TTI e preservare i posti di lavoro a rischio. A loro fianco i sindaci dell'Alto Tevere. Le maestranze attraverso questa riunione hanno rivendicato, rivendicano giustamente le preoccupazioni rispetto alla criticità del settore della tabacchicoltura. Una fase di trasformazione commerciale, di rapporti che vede l'Alto Tevere preoccupato perché da un lato c'è l'aspetto dei prezzi che devono essere riconosciuti al mondo dell'agricoltura di questo settore, che devono essere competitivi ma al tempo stesso devono garantire anche la capacità delle aziende di avere un reddito che ha sempre caratterizzato storicamente su questo territorio un indotto economico importante. Dall'altro ci sono le maestranze, i dipendenti che con il loro lavoro, con il loro impegno garantiscono un importante reddito alle famiglie del nostro territorio. I lavoratori rivendicano le proprie capacità professionali, la loro attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale e il loro impegno per la crescita della filiera e del territorio. Se chiude la trasformazione salta tutta l'organizzazione, scrivono in una nota, e verranno a mancare oltre 60.000 giornate di lavoro. A noi lavoratori sembrano assurde ed incoerenti certe decisioni che vanno esattamente nella direzione opposta rispetto a quella di incrementare il lavoro e ridurre le forme di assistenza.